Benvenuti su The Sims 4, una nuova sfida tra me e Lori che è qui presente Ciao a tutti Ok, praticamente abbiamo costruito ognuno due case, ovviamente Però è la prima volta che uno vede la casa dell'altro Quindi se ci saranno dei commenti, anzi ci saranno sicuramente dei commenti Ecco, tipo lei fa i tecchi, li sa fare bene, io non li so fare, li interseco Perché io guardo molti Steve Feeder su YouTube Ok, praticamente non è che ne guarda molti, li guarda tipo 3-4 dalla mattina alla sera Io li faccio Non è vero Sì, non è vero Ogni tanto Ogni tanto, c'è anche tantissimi YouTuber che fanno appunto Pre preferiti Sì, pre preferiti infatti Allora, finalmente, finalmente Lori ha imparato a fare le costruzioni prima dall'esterno e poi dall'interno Non proprio, cioè certe volte lo faccio e certe volte no, dipende Da che cosa, scusa Da cosa mi dice la testa, perché non uso un metodo, cambio sempre Tipo questa casa inizialmente doveva essere non azzurra e invece è azzurra all'esterno E perché hai scelto l'azzurro? Perché ho trovato una porta con l'azzurro Ah ok, quindi hai cambiato tutto l'esterno della casa in funzione della porta Sì, esatto Va bene, ok Però già è una cosa che comunque effettivamente ha un senso, costruire l'esterno piuttosto che l'interno Sì, sì, perché noi praticamente la stiamo commentando Ah, c'è contro luce, la stiamo commentando che si vede piccolina Quindi si capiva ambifero Finalmente ha imparato anche lei a fare gli esterni Perché ha perso la prima sfida in funzione dell'esterno Ma là non avevo tempo Anche se effettivamente abbiamo tolto il limite del tempo Perché secondo noi andava a sminuire la qualità delle case Vi invito a scrivere, non solo se guardate il video Dite quale casa vi è piaciuta, che è solo AIM Che non si chiama AIM, tu persisti con AIM Si chiama AIM, lui un giorno cambierà nome Se lo scriverà con la E-I-M Basta, senza H, senza niente Il limite di soldi era sempre, quanto? 18.500 Ok, quindi stiamo utilizzando lo stesso budget Entrambi i giocatori Questa è la mia cucina preferita Cosa, i mobili? I mobili Sì, vabbè sono anche la mia cucina preferita L'abbiamo visto una volta ad Ikea, simili Era nero con legno oppure era legno con nero? La base di legno è sotto nero E ora lei è andata subito a sperperare nella cucina Secondo voi arriverà a rientrare nel budget? Cioè, ci arriverà sicuro perché senza limite di tempo Però si scorderà qualcosa E se sì che cosa Pensate cose Perché qualcuno ha fatto un disastro E non vi dico chi E non vi dico chi Qui ha deciso, non so per quale motivo Di mettere le sedie tipo del paninaro Sono economiche Poi si è ricaccata e ne ha messa una per ogni tipo Perché siccome è la casa di una persona che non è molto ricca Fai vedere Che si ne va Cassonetti, cassonetti Che carino Non è brutto Se tu vai a comprare le cose dell'usato È difficile che trovi 4 sedi uguali Certo Ma se vai a risparmiare delle compre più scasse delle compre nuove Non delle compre usate No? Lei no Ah, lei no Lei se ne va Monnizze, monnizze Rigettiere Rigettiere Cosa è ricaccata o ha deciso di mettere? Non c'entrava la finestra Cioè, era brutta Ah, ok Tipo, questa qua è una cosa Che ho deciso di adottare anche io Ovvero, prima costruire completamente l'esterno E mettere le finestre E poi adattare le stanze alle finestre Invece io facevo al contrario Prima facevo la stanza E poi mettevo le finestre Mi accorgevo che da fuori faceva schifo Tipo tu vedevi una finestra Cioè, tipo la parete Invece di vederne due simmetriche Ne vedevi una completamente appiccicata Una più centrata Tavolino che fa schifo Non mi piace Lo posso dire che fa schifo A me piace No, a me proprio fa schifo Tipo A me piace Tra l'altro Tra l'altro si apre Esatto Funziona anche da tavolo Sì, se tu hai più di quattro persone a tavola Ma funziona? Devi andare a rubare le serie Ma funziona? No Ah, e allora Ma che c'è? Con l'immaginazione Esatto Ho il mio lambatario Non è... Ah, sì, tu Sì, è il mio lambatario Tra l'altro la casa degli ispettori gadget Perché... Perché chi ha un cappotto è l'ispettore gadget Sì Chi ha quel cappotto è l'ispettore gadget Va bene Ma è vero Ci credo Io ci posso fare quadri di me Ma io... Ma perché? Ma va che sono sceni Non mi piacciono Sì che nello stile della casa Ha una sua coerenza Ecco Ah, ok, qua ci sono le serie Lei è Siri Lei dovrebbe essere Siri Però ha una parrucca Che è un contenuto personalizzato E anche il maglione Anche il maglione Infatti, quando abbiamo dovuto fare il video Abbiamo dovuto togliere i contenuti personalizzati Ed è rimasta calva Un maglione Tipo... Tipo... Tipo che ghera È bella la mia casa Sì, a me non piace Qua ci stavano, secondo me, delle tendine Per dare un po' di colore su quella... No Su quella va I mestoli di plastica Di carta di plastica Ma che è una cosa? A me è ferro Acciaio Ah, io ho preso la scossa Sì, ho preso la scossa Porca miseria Però non ho messo il pulito Va, va, senza lavandino Le mani se le lavano in cucina Esatto Perché deve risparmiare Ah, deve risparmiare O se le può lavare nella doccia Che poi parlo io Vediamo questo capolavaggio Ok, tu non l'hai vista, no? No La stai vendendo tu per la prima volta Ok Allora, qua l'ho decisa di fare a riazzata Perché volevo fare le solite scalinate Poi ho scoperto Nella seconda parte del video Che se fate una seconda costruzione all'interno dell'otto Rimarrà rialzata anche l'altra E secondo me è una grandissima cazzata Perché se io... Sì, perché se tu vuoi fare una casa E vuoi fare una casetta Giusto? Ad esempio vuoi fare il chess room Va, va, va I tetti intersecati E poi io non li so fare Non li so fare Tipo tu è una cosa brutta secondo me Che fai tutto un colore all'esterno Non è senso Se tu fai il colore del palazzo ci sta Ma una casa tutta di pietra Ehi porcellino quello là intelligente Quello che l'ha fatta di cemento Così non grollava Questo è un colore molto brutto Infatti ho deciso di cambiarlo E dicevo, secondo me dovrebbero Far sì che la seconda costruzione all'interno dell'otto Possa essere rialzata o meno A seconda della... Perché è tutto automatico Eh sì ma tu fai Seleziona l'otto Come una volta nel 3 c'era la base Cioè tu adesso costruisci Ah vero, vero Ma era meglio Era meglio che tu facevi fondamento E costruivi le fondamento Perché era troppo pesante Intanto io devo andare di risparmio E metto probabilmente appena si fa un po' di pasta Secondo te riuscirà mai a fare i piatti Senza sbattere la testa? Secondo me sì Se sei tu sì Se sei tu sì Se sono io no Dai ma può riuscirci Sì dai E poi più bello Perché ti senti riparato Ti senti conottato Come si dice quando diceva Io ho messo quel bazooka Che ci stava comunque Sì ci stava Ci stava Non era bruno Non era una porcheria Però Mette finestre così Così Adminchium Adminchium Sì io metto le finestre dopo Perché io ho la facoltà di bucare quello che voglio Qua ho deciso di fregarmene Suonava brutto però Ho deciso di fregarmene De budget Ho comprato uno schermo Che schermo hai comprato? Ne hai comprati? Non c'ho fatto cazzo Guarda Non si attende i dettagli Era piccola e l'ho ingrandita Non c'ho fatto cazzo Ehi siccome io non faccio le bagianate Si possono fare Si possono fare Hai ragione Avevo messo qua la libreria di Totono Cartione Quella che avete visto Gigante Era un suggerimento di Lori Che mi ha detto Ci sono le librerie grandi Perché lei non mi guardava Lei si faceva i suoi cacchi Faceva il cambio di stagione Eccetera eccetera Raccontiamo cosa faccio io a casa mia No Per far capire Che io stavo costruendo E tu ti facevi dei cacchi Per quanto ne sanno Potevi anche arrostire Hai detto Faceva il cambio di stagione Hai detto Faceva il cambio di stagione Egnora La gente sa Che io faccio il cambio di stagione E porca miseria Va va Quel tavolino Quella cannella Effettivamente Sono stato stupido Perché metterla al sole Non è tanto intelligente Se c'è una giornata di sole Poi tu mi hai detto Che tende non esistono a casa tua No Non ne ho mai messe Se tu guardi tutte le case Che ho costruite In vita mia Non ho mai Non le so usare Le tende Però non le so usare Ecco Questo era quello Che mi riferivo io Ho fatto una seconda costruzione Perché questa casa È una casa Per le vacanze Non è una casa Diciamo Abituale E quindi ho fatto Una sorta di dependanza Infatti come avete visto Non c'è Né una stanza di letto Né un cesso Né un bagno Quindi ho deciso Di spostare il tutto Nella zona notte Il problema è che Se tu devi andare In bagno Di giorno O la fai nel lavandino O la fai in giardino O ti devi fare 64 O se piove Se piove Ti affacci No no Se piove La fai dalla finestra Tanto c'è il classico Colpo della mano Stendere Qua ho deciso Di mettere le finestre A cazzo di cane Così Si a cazzo di cane A razzo di canna Quindi Molto diverso Come stile Come mio Stile Poi hai fatto Quella mezza casa Rustica Qua moderna Questa è un'altra cosa Ci sta È un'altra costruzione Col bagno rustico Ma dove è il rustico Perché a terra Ci sono le pietre Nelle costruzioni E le ha trovate Non è che è colpa sua Se le ha trovate le pietre Ma poi Secondo me ci sta Nella sua Inderezza Andiamo a fare il giardino Che è il mio pezzo forte Io nei giardini Avete presente I giardini da incubo L'ho inventata io Quella serie Perché Sono troppo brava A fare gli esterni Non lo so Ci metto Ci impiego tantissimi sordi Infatti Qua li ho finiti Tutti quanti Esatto E speso tutti i sordi A giardino A giardino Perché gli alberi costano Però Stiamo provvedendo Buttando via Determinate cose Oh E per me L'aspetto esterico Conta Non ci posso fare niente Non solo del giardino No Ma perché Vuoi dire che ho una casa brutta Ora Scorreranno le slide Va 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 La prima era più data Va 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 No Secondo me Questa è nettamente più bella Secondo me Più bella di questa C'è la casa messicana Quella che ho fatto Che a proposito Se non l'avete vista Andatevola a guardare Anzi Devo creare una playlist Non lo so se l'ho fatta Una playlist Solo su The Sims E le speed build Comunque Che è successo Perché avevi fatto Le ringiere verdi Non erano verdi Non l'ho viste Non l'ho viste Se erano verdi Credo di no Boh Non me lo ricordo Però Ho dimenticato il cesso Ho dimenticato il bagno Si può dire cesso Se tu cerchi nel dizionario cesso Esce Mentre se cerchi il gabinetto Mi pare che non c'è Se non dico una fesseria Giuro Questa è la mia cucina Con I sportelli di legno Che stanno Fetendo Cioè ti lamentavi Cioè ti lamentavi delle mie sedie Cioè Cioè quel fornello Che è orribile E vabbè Sono dettagli Comunque Avete visto Le due case Al solito Se guardate il video Commentate qui sotto E fateci sapere Che screen Fateci sapere Quale delle due case Vi è piaciuta Mi raccomando La vostra opinione Conta E niente Per quest'altra sfida Per quest'altra challenge Su The Sims Finisce qui Fatevi sapere Fatemi sapere sotto Che ne pensate E ci vediamo alla prossima Ciao a tutti Da Sandro Remix E ciao E ciao da Ciao da me Da me Ok Ciao a tutti